Concessionari all'auto, a Montagna in Valtellina e a Delebio. Saranno gli anziani le nuove sentinelle del territorio, grazie alla nuova convenzione siglata questa mattina tra Federpensionati col diretti e la Questura di Sondrio. L'intesa, proposta dal settore dell'Associazione dei Coltivatori Diretti, con all'attivo ben 5.500 aderenti, prevede una collaborazione reciproca tra lavoratori a riposo e agenti della Polizia di Stato. L'appello delle Forze dell'Ordine, quest'oggi rappresentate dal Vicequestore Carlo Bartelli, è a non aver paura di denunciare le truffe e di allertare la Questura per qualsiasi movimento sospetto. In tre anni, secondo i dati resi noti, su tutto il territorio nazionale i raggiri nei confronti degli anziani sono aumentati vertiginosamente. Il picco nel 2015, con ben 35.000 casi. Un suggerimento su tutti, chiedere aiuto ed essere tempestivi nelle segnalazioni, perché solo attraverso le denunce si possono acciuffare i responsabili. L'incontro di oggi è stato inoltre occasione per approfondire la situazione in cui versano le realtà legate alla terza età, sia sul piano nazionale che locale, attraverso le voci di Danilo Elia, segretario nazionale federpensionati col diretti, e di Franca Sertore, presidente provinciale della categoria, la cui carica è stata rinnovata proprio questa mattina. Beh, gli anziani stanno vivendo ancora momenti di crisi, sono preoccupati per il discorso della sanità e soprattutto non si vede un futuro migliore rispetto agli anni passati. Adesso anche tutte le nuove proposte che vengono dal campo politico sembrano miracoli, però la gente ha bisogno di azioni concrete. A livello provinciale siamo un bel gruppo, tra l'altro la maggior parte dei nostri pensionati lavorano ancora, hanno ancora le aziende e lavorano tutto il giorno, però dovrebbero essere maggiormente retribuiti anche a livello pensionistico, perché quelli che non hanno altri redditi faticano ad arrivare a fine mese.